Sono il dottor Romanese del Dipartimento di Prevenzione e noi qua ci impegniamo quotidianamente al massimo delle nostre potenzialità per garantire una risposta pronta ed efficace al peggioramento dell'epidemia che comunque ci impegna molto e ci sta impegnando ormai da un anno. Nonostante tutte queste fasi alterne consapevoli dello sforzo che fa anche la popolazione, noi comunque non molliamo e cerchiamo di tenere duro e lavorare anche per voi.